Ciao a tutti! Ciao, ben ritrovati! Questo è un altro video della serie di ritmi del mondo sul digeridù. Oggi vedremo il timini, un ritmo africano, propriamente senegalese, che abbiamo appreso vari anni fa dal maestro senegalese Badunjai. Prima di proseguire con il video, mi raccomando, come sempre, come al solito, iscrivetevi al canale, condividete, mettete tanti like e sostenete la nostra pagina. Il ritmo timini è un ritmo in quattro quarti, parte sul levare e ha un basso che va a marcare tutti i quarti. È questo qui. Più veloci, suona in questo modo. Sul digeridù è interessante fare un gioco, ovvero fare e suonare il ritmo utilizzando il suono normale, il drone, e utilizzando l'effetto tromba per marcare, appunto, tutti i quarti. Come fossero questo basso. Esatto. Dopodiché, girarlo e suonare tutto il ritmo sull'effetto tromba e marcare i bassi con il suono. Vi faccio sentire. Allora, inizialmente suonerò tutto il ritmo sul tut, quindi sull'effetto tromba, e marcherò i bassi col suono. Sentite che, appunto, quello che si sente è un ton, 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 più veloce, suona così. Questo ritmo fa ballare, è molto coinvolgente. Se io inverto il suono e l'effetto tromba, succede questo. Prova a suonarli insieme e vediamo l'incastro delle due modalità. Ok, li suono uno dopo l'altro. Ok. Proviamo con i giambi. Proviamo con i giambi. Grazie. Questa finale, questa chiusura, è una chiamata nel gergo della ritmica africana, dove poi tutti i tambui, tutti i suonatori vanno insieme e finiscono gli assoli e si scandisce questo tempo che introduce o conclude qualcosa. Vi ringraziamo per averci seguito, speriamo che questo video vi sia utile e soprattutto studiate e fateci sapere come vi troverete ad applicare questo ritmo sul digeritore. Ok, grazie davvero. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!